Ciao ragazzi e ragazzi, parliamo ancora del Festival di Sanremo 2020. Nell'ultima puntata, nonché la quinta serata, questa volta uno dei protagonisti è proprio Piero Pelù. Durante la sua esibizione con il brano gigante, sembra che il nostro cantante abbia fatto un gesto particolare. In questa ultima serata molti artisti scendono dal palco per raggiungere la platea. E così fa anche Piero Pelù. Raggiunto il pubblico, ruba una borsetta a una signora della platea e poi sale sul palco dell'Ariston e la porta con Zè. Ecco che Piero Pelù fa la sua marachella e tutto contento mostra la sua refurtiva alle telecamere. La borsetta della signora che poi mostra in bella vista anche sul palco dell'Ariston e con la borsetta davanti a sé mostra sul suo petto la scritta Tu sei molto di più, la frase del ritornello del suo brano Sanremese. A fine esibizione Amadeus ci scherza su e afferma c'è uno scippo di mezzo. Complimenti a Piero Pelù per la sua performance e per il quinto posto aggiudicatosi. Io adesso vi saluto, commentate pure e a presto con un nuovo video. Bye bye! Grazie a tutti!